quasi esattamente un anno fa veniva presentato lo studio explorer hcm che per la prima volta portava i dati di uno studio di fase 3 diciamo concluso con successo e presentava il mava canton che è un inibitore all'osterico della beta miosina che è diciamo così per il trattamento della cardiometria ipertrofica costruttiva su base sarcomerica e a distanza di un anno lo studio si è arricchito di sottostudi che hanno dimostrato anche effetti del mava canton sulla qualità della vita sul rimodellamento dell'atrio del venticolo sinistro positivo e quindi diciamo così piano piano ci stiamo avvicinando verso una registrazione del farmaco nel frattempo un competitor che è molto simile come funzione quindi sempre un inibitore all'osterico della beta miosina che si chiama afficante è stato sottoposto a uno studio di fase 2 di cui abbiamo i primi risultati che sono anch'essi fortemente positivi e che quindi diciamo sembrano avviare una vera propria pipeline di molecole che diciamo specularmente all'omecantiv-mecarville che invece è uno stimolatore della beta miosina quindi che deve fare l'opposto che serve nelle forme dilatative ecco formano una una pipeline di molecole che agendo sulle proteine contrattili sembrano poter modificare al nostro quasi al nostro piacimento diciamo la funzione per ridurla nel caso delle ipertrofiche per accentuarla nel caso delle dilatative e quindi si sta veramente a prendere un fronte in questo senso sempre per le cardiometrative ipertrofiche è interessante l'affacciarsi della terapia genica che vede già due iniziative in arrivo in fase 3 che sono in fase 2 3 che sono un tentativo di terapia sempre con vettori virali per pazienti con mutazione della proteina cilegan terremiosina che è il gene più frequentemente associato al cardiometrative ipertrofiche ma anche per la troponina t che è un gene più raro ma spesso più malo a fronte di questo la terapia genica si sta facendo anche per altre patologie e in particolare per le forme da accumulo che sono forme di cardiometratie con fenotipo ipertrofico ma con un andamento molto più maligno che spesso interessano il maschio spesso sono legate al cromosoma x come la malattia di fabbri in cui sapete abbiamo già una terapia sostitutiva enzimatica è una terapia sciaperonica ma in cui si sta facendo anche la terapia genica e la malattia di danon che è una patologia particolarmente aggressiva nel giovane maschio che porta a morte altro che altro nei primi anni di vita e di cui abbiamo già dei dati promettenti a livello di esperimenti di fase 2 3 con terapia genica con dottore virale quindi diciamo sicuramente si sta affacciando all'orizzonte quella che nei prossimi anni almeno per alcuni tipi di patologie sarà poi l'approccio che tutti un pochino stiamo aspettando non ultimo sempre per le forme dilatative per alcune forme dilatative come le laminopatie le forme dallamine che sono cardiopatie dilatative con un fenotipo particolarmente maligno sia per la disfunzione che per il profilo aritmico un inibitore dell'alpatine p38 è in fase di studio con uno di studio array in fase 3 e anche qui siamo in attesa di risultati che dovrebbero arrivare per l'anno prossimo e in conclusione il segnale molto chiaro che viene da tutti questi studi che si sta aprendo un fronte importante a 360 gradi che dopo anni di stagnazione veramente siamo alla soglia di un periodo di innovazione che porterà una serie di molecole e una una serie di opzioni nuove e promettenti per i nostri pazienti con cardiopatismi grazie a tutti grazie a tutti